Il mio maestro attuale è Howard Stern Howard Stern Che è un famosissimo DJ che ha spaccato veramente il culo negli Stati Uniti negli anni 70 Ha scopato in diretta lui, a me manca quello porca puttana No, no! Dai facciamo, se mi ami Ma noi in pubblico non si fanno, vedi il clonera Canalis che non si baciano in pubblico? Ma non è in moda, ma è fuori in moda! Dammi un bacio Aspetta, aspetta, aspetta C'è ancora malattia? Porca puttana Eh, scusami Allora, lei però mi lascia sempre fare una cosa Quando lei incontri in radio le faccio sempre... Va bene, basta! Bacio, dammi un bacio Vai, dammi un bacio! Sono diabolico! Questa è la nostra cameretta Questa è la cameretta della sua E da qua noi... Io ho montato le scenette da qui, Fabio ho montato le scenette da qua C'è il mio orsetto famoso Quello che ho violentato Sì, non c'è più il buco Ma poi ci sono... Cos'è questo? Questa è una querela per scherzi telefonici Questa è un'altra querela... Sì, un verbale, non mi ricordo di che cazzo Eh, questo è pesante Questo è stato il giorno, mi sa Eh, sì Ma ormai sono volate via quasi tutte Ce n'è una bellissima Ah, queste sono tutte le tracce audio Le basi, cazzi Sì, è una specie di tavolozza di cui io tengo tutto aperto Falsissimo, per esempio Il demotivatore Vedi, questo è il demotivatore Lo Zoni 105 presenta Il demotivatore Una volta incontrato il demotivatore Non conterai più un c***o Allora 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 Allora